eccomi buongiorno a tutti come state ben trovati vediamo chi c'è oggi mi sento carica come sempre ma oggi tanto 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 come è andata avete dormito avete dormito bene eccoci qua ecco la mia valentina sempre presente pronta nico buongiorno ecco riccardo buongiorno riccardo tiziana ecco la tiziana lo vedo che sei presente ecco paola un bacio grande paola franco o questa mattina proprio lucia buongiorno lucia questa mattina veramente carichi io mi sento veramente tanto tanto carica ciao stefano ecco simona o mamma mia il nostro gruppo parte sempre carico la mattina alle 10 e bene bene allora che mi raccontate spero che oggi riusciamo a fare una buona lezione un buon allenamento io già ho tutto nella mia testa ci si diverte sono sono veramente tanto tanto contenta specialmente perché condivido questa questo spazio insieme a voi allora dai iniziamo subito non ci perdiamo in ciance come si dice allora come sapete per la nostra lezione un bacio fede teresa buongiorno a tutti allora per la nostra lezione di tonificazione abbiamo bisogno del dei pesetti per cui o delle bottigliette di acqua oppure chi ce l'ha a casa direttamente dei dei pesetti e poi un elastico l'elastic band per fare bene la definizione ok importantissimo dai forza iniziamo bene vi voglio proprio carichi 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 ragazzi ma più carichi di così piega le gambe spingi spingi molleggia sulle gambe giù spingi piega il busto avanti molleggia destra sinistra spingi piega il busto avanti spingi piega il busto avanti 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 Su, lungo, alti, su, vai, vai. Su, doppio, 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 cumo, su, speed, giù, piega le gambe, doppio, su, ancora, su, insieme, giù, chiudi, chiudi, step touch, su, fingi, su, vai, su, fingi, piega leggermente le gambe, dietro quattro, su, quattro, 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 ancora, quattro, avanti, dietro, dietro, su, vai, conta sempre quattro, quattro passi, dietro, vai, in diagonale muoviti, ancora, su, su, spingi, ancora, su, avanti, su, 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 ancora, Ancora, su, vai, 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 spingi, Spingi, calcia, conta sempre quattro, vai, spingi, vai, Vai, ancora, continua, marcia, 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 su, vai, 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 su, marcia, marcia, Vai, 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 su, 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 non perdere il ritmo, adesso diamo la mia destra, eh, giro alla mia destra, Allunga il braccio, lungo, su, su, spingi, 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 su su quella gamba rimando spingi fuori lungo braccio vai su spingi sulla gamba vai piega la gamba insieme bingo giù vai dietro su attenzione adesso due su qui mi immagino che cosa state combinando cambio 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 su 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 singolo su spingi vai vai che figa ragazzi su su destra destra disegna una V su 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 Sciogli le braccia. Sciogli. Sempre la destra. Cambio. Su. Spingi. Attenti. Pro. Aprop. Aprop. Valle. 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 Su. Adame, vallen, all'interno. Vai Spingi Su Sciolgo Spalle Gomiti Su Gomiti Su Pingi quei gomiti Ruota Su Su Blocca Su Lungo Vai 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 Lungo Su Guarda avanti Su Rimango Su Su la gamba Chiudo Faccia Cambio Su Spingi E Leggermente una torsione Con il busto Piccola ma fatela Lungo Spingi Vieni Incrocia La gamba Dietro Avanti Attenti due Doppio Doppio Su Dentro l'addome Tallone Tallone Continua ragazzi Continuate Conto io Ho Do Ho Su Ho Do Ho Su Ho Forza E Continua Calcia Adesso singolo Uno 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 Ancora Vai Due Uno Calcia avanti Spingi Spingi Calcia Ancora Su 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 Vai Divarica Prendi aria Scendo Ancora su Ancora Su Vai Ancora Su Pronti con i pesi? Andiamo a prenderli Vai 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 Lasta Ancora Vai Su Abbiamo preso i pesetti Su Piego Vai Vai Scendi con il busto Avanti Piega Vai Scuotto Spingi Su Bene Le braccia si aprono e si incrociano avanti Vai Spingi Spingi Ancora Vai Forza Spingi Giù Stendi le braccia Vai 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 Forza Vai Vai Spingi 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 Chiudo Chiudi Quei gomiti Tieni le braccia un pochino piegate Non mollare Le gambe molleggiano Adesso tese Vai Scusate Scusate Vai Piccoli molleggi ancora Scusatemi In avanti Non mollare Adesso si che tese apri Chiudo Dentro la pancia Allunga quella colonna Forza Forza Le braccia non salgono troppo All'altezza delle spalle Su Pingi Piccolo Morbide le spalle Su Pingi Tieni un pochino il braccio piegato Attenzi adesso Solo destro Pingi Bene col gomito alto Non voglio vederlo che scende Piccolo Chiudi bene Chiudi Su Forza Dentro l'addome Rimani sempre in chiusura Afro Su Completo il sinistro Apri e chiudi Mantieni sempre semiflesso il braccio Sono Chiudi Piccolo Fingi Dentro la pancia Pingo Interno Su Vai Forza, su, alza un pochino il tallone quando ti sposti, su, insieme, spingi, apri il bimbo, su, braccia, vai, forza, giù, piega le gambe, su, vai, spingi, piccoli, spingi, non mollare adesso eh, sciogli, sciogli, su, chiudi, chiudi, start touch, su, e spingi, rimando, tallone della gamba dietro, cercate di posizionarlo a terra, piego la gamba che è in avanti, busto in avanti, su, dietro, spingi, spingi, posiziona il pie davanti bene dritto eh, date stabilità al vostro corpo, spingi, gomito stretto, spingo, non mollare dentro l'addome, non spanciate, non spanciate, dritta, tesa il braccio, segui la tua linea, spingi, spingi, teso, il palmo delle mani è rivolto, della mano, è rivolto verso l'alto eh, teso quel braccio, scivola lungo il fianco, non ti allargare, non aprire bene, sul braccio assolutamente no, molto stretto vicino al corpo, rimani piccolo, alto, vai, su, forza, cambio frontale, scendo, 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 bene dietro quel bacino, molto dietro, molto dietro, giù, giù, ancora, dentro l'addome, non mi mollate adesso, scendo bene dietro quel bacino, forza, vai, piega, cambio, tallone della gamba dietro, spingi avanti, gamba piegata avanti, la mia e la destra, vai, teso, teso, busto piegata avanti, allunga quella colonna, guarda terra, forza, ragazzi è molto importante la respirazione, quando va a stendersi il braccio, tira fuori aria, forza, forza, bene alto quel braccio quando va a stenderi, piccoli molleggi, spingi, non mollare, su, adesso braccio teso, su, 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 controlla la tua linea, il tuo equilibrio, spingi, dietro teso, spingi il palmo della mano verso l'alto, forza, piccoli molleggi, rimango, spingi, ancora, la respirazione, adesso siamo a piccole piccole respirazioni veloce, vai, vai, su, centro, 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 giù, 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 piega con le gambe, giù, giù, forza, dentro l'addome, rimango, vai, dentro l'addome, allunga un po' quella colonna, rimango, gambe, forza, vai, veloce, su, spingi, vai, su, vai, bottigliette, sulle cresteriache, poggiale, non proprio creste, scusate, sopra qui, vai, 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 continua ragazzi, vai, vai, spingi, spingi, continua, 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 vai, tempo, su, 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 vai, veloce, 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 ancora, 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 vai, 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 molleggia, su, spingi, 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 ancora, vado a destra e a sinistra, vai, vai, troppo ragazzi, ho preferito oggi, vai, forza, destra e sinistra, spingi, sinistra, spingi, vai, vai, eccole, eccole, ci siamo ragazzi, vai, posiziona adesso le bottigliette sui quadricipidi, finito, tempo, piccolo, mantieni con le gambe piegate, io vi vedo, su, dentro l'addome, destra e sinistra, non mollare, solo destra, spingi, bene, contrai bene il gluteo destro quando vengo in avanti, strizza, spingi, centro, su, vuoi, attenti sinistra, riccia, chiudi quei glutei, spingi, spingo, destra e sinistra, su, dentro l'addome, su, su, chiudo, qui, piego, piego, spingi sui talloni, piego, siediti dietro, come se avessi uno sgabello, mi siedo, spingi, spingi, vai, dietro quel bacino, tieni la colonna in allungo, rimango giù, spingi, molleggia, spingi, molleggia, molleggia, dietro la destra, posiziona le bottigliette sulla gamba sinistra sul quadricipide, spingi, dietro, scendi, manisci le gambe, continua, cambio, vai, dietro la sinistra, molleggia, forza, non mollare, unisci le gambe, giù, brucia, divarica, continua, vai, rimango, bicipidi, piega le gambe, unisci i gomiti al tuo corpo, stringi di forte, allunga la colonna, bene, guarda avanti, guarda avanti, tanto mi sentite, su, aumenta un po' la velocità, spingi, insieme, scendi, vai, piccoli, su, 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 vai, guido, candammare ragazzi, se ci lasciano andare, giù, 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 rimango giù piccolissimi, dai, pigi, apri adesso, mantieni i gomiti chiusi, chiusi significa vicino al tuo corpo, su, piega molto, rimango giù, dentro a pancia, scendi, farsa, chiudo di nuovo, conta quattro, fuori, conta quattro, su, due, tre, quattro, avanti, per due, uno, due, e, 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 ancora, forza, le spalle sono morbide, per uno ragazzi, avanti, vai, uno, uno, su, vai, alterna, avanti, forza, forza, rimango un pochino giù, dai, scendi, salgo, piega 90-90 i gomiti, spalle, su, dietro, spingi, attenti, su, vai, vai, ancora ragazzi, vai, 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 non mollate, non mollate, vai, 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 continua, su, 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 vai, fingi, vai, rimano, piego, stelle, spingi, 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 vai, 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 ci muoce, vai, mi salto dall'uncio, vai, 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 Vai vai, non mollare, piccolo dietro, spingi, spingi, dentro l'addome non mollare, su, 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 lento, up, lento, su, lento, su, lento, su, lento, su, lento, ancora, ultimi. 6, 5, 4, 3, 2, 1 e torniamo, morbida le spalle, vuoto e vai vai dietro, su, avanti, cambio giro, vai vai vai, stiamo recuperando. Giù i pesetti, inspira su, allunga, fuori aria, ancora su, allunga e fuori aria. Allora ragazzi adesso ci prepariamo per la fase a terra, per cui prendete i vostri cappettini, asciugamani, mi raccomando. Vai vai, allora, prendete anche tutto il vostro materiale che di solito usate. Ci mettiamo oggi seduti, allora, pronti? Allora, posizionate le mani a terra, il busto è leggermente indietro, spingo il palmo delle mani, su, su, vai, spinge, vai, hop, 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 vai, su, su, vai ancora, hop, su, su. Mantieni i piedi a martello, il ginocchio va verso il petto, spinge, rimango, apri e chiudo, vai, allunga bene la colonna, su, su, ginocchia, apri. Cercavi di non compensare troppo con le spalle, su, su, spingi. e giù, ricupera, come va? Brucicchia, eh? Giù, giù, scendi con il busto. Sei, sei, sostiende l'sentro le mani. Ricorda le mani. Ricorda. Ricorda le mani. Giù, ricorda le mani. Scendi un po' col busto, torsione, spingi, su, spingi, ciao Fabietto! Molleggia col busto, su, tutto addome ragazzi, scendi, giù, forza con le braccia, chiuditi, addome, chiuditi, vai, vai, spingi, lunga quel braccio, le spalle, recuperate, anzi ci mettiamo di fianco, cioè io mi metto di fianco, voi rimanete pure così, cappialo elastico, elastico fate un cerchio, create un cerchio sempre lo sapete non troppo largo se no non hai i tuoi massacranti, allora lo inserite all'esterno delle vostre gambe, perfetto? andiamo dai su, pini, gambe 90-90, braccia pese, spingo il palmo delle mani, vai, spingi, apri, su, pini, Russia, dipingi pendezza, spingi, palloni, fingi, di varia i taberni, rimango molleggia non chiuderle vai commentate è tosta? ma ci fa tanto bene dai manda in dentro l'obbedico chiudo chiudo vado fin basta dai piccoli dai molleggia ancora senti bene hop tac rimango vai vai inizia ad inserire le mani intrecciate dietro la nuca alza leggermente la nuca e le spalle ma leggermente va in pressione grande con le gambe divaricate le ginocchia verso il petto fuori aria quando mi chiudo spingi spingi rimango solo busto solo busto fermi le gambe divari tale bene insieme insieme chiuditi recupera oddio mio belli miei su la gamba destra sempre con l'elastico semi piegata torsione giù gomito opposto va verso il ginocchio la gamba leggermente sale cambio cambio vuota bene bene questa soluzione giù le gambe su busto dentro la faccia su braccia chi vuole se no le inserite sempre dietro la nuca rimango vai bene in retroversione guarda alto scelgo bene mamma mia mi sudata oh Giulietta non ti vedo in palestra ti vedo qui oh minaccia Giulia allora continuiamo a mantenere l'elastico bene a metà della della gamba della coscetta nel quadricipite piegate bene le gambe 90-90 cercate di mantenere i piedi in flex siamo in decupito laterale e bene comodi vai su forza meno male riccardo che perfetto una sudata eh spingi 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 continuate ragazzi io chiudo la finestra perché mi sta arrivando uno spiffero d'aria che non vorrei via nella terra continuate eh nessuno vi ha detto di fermarvi dai continua su forza rimani su con la gamba piccoli molleggi piccoli spingi vai vai al petto il ginocchio su su spingi finji co ai rida giudi di da di da di da di da cambio, cambio lato lo so che brucia Rita qui siamo noi siamo nati per soffrire lo sai Ritu e non lo sai ma ci piace questa sofferenza fossero tutte così questa è una bella sofferenza molto bella molto pronti? 90-90 le gambe e i piedi in flexor via e su belli miei dai dai fingi apri bene rimani su piccolo 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 dai 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 andiamo un po' forza piccolo molleggia verso l'alto vai vai signorita apri bene al pezzo adesso il ginocchio piega fingi 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 mo' divento pure canterina piego potete togliere intanto l'elastico potete togliere intanto l'elastico potete togliere intanto l'elastico e togliamo le scarpe velocemente, veloci, perfetto, è certo che se lo dico io ti devi fidare, certo che ti devi fidare, ti devi sì fidare tesoro mio per forza, allora che ci mettiamo, che ci mettiamo, proviamo un po', no vabbè mi è capitata una cosa assurda, allora dai, la fisarmonica, la musica delle fisarmoniche, allora vi guido io con la mia voce, andiamo a piegare la gamba destra spingendo con forza il ginocchio verso il petto, cercate di mantenere le spalle morbide e di mantenere la colonna ben in allungo, andiamo a inserire il piede oltre il ginocchio della gamba tesa, cioè della sinistra, spingendolo, spalmandolo bene a terra, andiamo con la mano sinistra a spingere il ginocchio destro verso il petto, per cui vado a spingere, a comprimere il ginocchio ed effetto una rotazione verso la mia destra del busto, lo sguardo ovviamente segue la rotazione, guarda verso la parete destra, sempre le spalle morbide, cambiamo dall'altra parte, spingo bene il ginocchio sinistro verso il petto, bene, vado a spingere, e torniamo, entrambe le gambe al petto, e vado ad abbracciare, allunga bene la colonna verso l'alto, divarica, e andiamo a spingere bene, ruoto, afferro con la mano destra il piede destro, l'avampiede, spingo, vado a creare così, una grande spinta del tallone verso il battiscopa, torno, cambio, sinistra, destra, chiudiamo, il piede sempre a martello, prendo con le manine diamantiede, spingo, mantieni la colonna in allungo, torno su, piego dietro, allunghiamo bene il quadricipide, non esagerate, mantenete sempre il bacino in linea, torno, cambio, su, il momento più bello romano, incrociamo le gambe, su le spalle e scendo, fuori aria, su, scendo, su, scendo, su, ancora, scendo, su, scendo, ho esagerato, volevo abbassare, su, allunga le braccia e scendo in avanti, ancora su, scendo, ancora prendi aria dal naso, fuori aria dalla bocca, morbido, ruota le mani, sul braccio destro, vado su, allungare, crea una piccola pressione, qui sulla zona tempiale, spingo l'orecchio della nuca, l'orecchio sulla spalla, e la spalla scende, si allontana dall'orecchio, cambio, cambio, dall'altra parte, in avanti, bene il mento verso la vola, su, vado ad allenare, chiudo, braccio, cambio, belli miei, cambio, il volto all'interno, cambio, su, vado a scaricare bene, e certo franco proprio si fa un bel piatto di pasta oggi, si è lavorato su, piedi parallele, iniziamo a sgrottolare la nostra colonna, vertebra dopo vertebra, mantenete le ginocchia leggermente in flessione, prendi aria su, e scendo, allunga avanti, apro, su bene, e scendo, ancora, inaspiro, uniamo il pano delle mani, io come sempre vi mando il mio cuore, vi do un bacione grande, ragazzi, allora, anche oggi la lezione è finita, noi ci vediamo sabato, chi vuole fare lezione in diretta con me, ci vediamo alle ore 17, sempre su facebook, nel frattempo vi mando un bacio grandissimo, e come sempre vi ringrazio veramente di cuore di essere sempre vicino a me, di fare le lezioni, le mie lezioni, questo mi carica, voi siete la mia benzina, io lo dico sempre, e veramente grazie, grazie, grazie di esserci, anche perché è un modo per rimanere uniti, e per farci forte l'uno con l'altro, ed è importantissimo, spero che presto possiamo ritornare nelle nostre sale, nelle nostre palestre, perché è importante, e abbracciarci fortissimo tutti. Per chi non seguirà sabato la mia diretta, io volevo approfittare per farvi gli auguri di Pasqua, è una Pasqua diversa, è una Pasqua sicuramente con i familiari stretti, non possiamo andare al mare, andare a fare le scampagnate, ma bisogna restare nelle nostre case, ma questo magari ci fa apprezzare di più tutto quello che abbiamo lasciato nelle nostre spalle, perché comunque magari questo periodo può apportare anche dei grandi cambiamenti, almeno questa è la mia speranza, e quando ci permetteranno di tornare in libertà, lasciatemi passare il termine, io spero che ognuno di noi possa aver fatto in questo periodo un percorso interno e possa aver tratto da questi grandi sacrifici delle cose buone, perché veramente penso che al di là di tutto di questo maledetto virus, eravamo tutti proiettati su una via completamente sbagliata, e per cui secondo me questi cambiamenti ci aiuteranno veramente a metterci in una via migliore, io me lo auguro e me lo spero, perché come stavamo andando secondo me tutti, nel nostro piccolo tutti, avevamo iniziato a percorrere una via completamente sbagliata, e non era possibile. Detto questa quantità di parole, anche pesanti se vogliamo, ma dettate dal cuore, io rinnovo la mia buonissima Pasqua, mentre chi vuole, noi ci alleniamo sabato, vi ripeto alle ore 17 con il Pilates, che ci fa benissimo, oltre che molto allenante, riequilibria tutto un sistema anche interno, oltre che tonificare e modellare il nostro corpo, ci aiuta proprio per un equilibrio, che in questo momento ne abbiamo tutti un pochino bisogno. Per cui io spero sempre di ritrovarvi sabato, numerosi, intanto vi mando un bacio, vi auguro buonissima giornata, ciao ragazzi, buona giornata!